La riforma non è che non ci piace to cure, però quei punti che i sindacati già avevano mostrato durante le prime trattative come critici, il governo ha continuato a far finta di niente, nel senso che apparentemente sembrava che ci fosse un'apertura, poi in realtà c'è stato questo slittamento del dibattimento in Senato, è stato più un prendertempo, oppure come qualcuno dice forse è stato anche un modo per spostare il dibattito in un periodo in cui le scuole sono finite, le attività didattiche sono finite e quindi forse è anche più difficile per noi metterci d'accordo e ritrovarci. Quindi questo e altri presidi pensiamo che siano utili proprio per continuare a sostenere il tipo di lotta che facciamo.